sono le otto e qualche minuto prima riprendiamo la linea dello studio boom da bash prima con mister robinson e ci piace caro carlo vitelloni quando vengono i gruppi le band musicali e insomma vengono a dire delle cose sensate e forti come l'ha fatto boom da bash la cosa è stata molto apprezzata perché cosa vi dicevamo proprio fino a ieri caro vitelloni cosa dicevamo buonasera evan grozni e buonasera a tutti gli spettatori teleutenti viestrimatori ma ci sono anch'io ah vedi poi stasera barbaluca che normalmente è un po la voce fuori che ha barbaluca ha dato buca non l'ha data a marco maschietto che sarà un uomo un po fantomatico è atteso ogni anno in video ha scelto di andare allora oggi è il 26 giugno 2013 parli ho sentito un no è la prima volta che dici che noi un po dedichiamo anche al venice sun splash festival perché appunto hai parlato dei boom da bash come si chiamano arrivano dopo naturalmente dalle 22 30 circa prima ci sarà anche il dj set di bom cilum e prima però ci sarà anche san oliver scardi con noi che con lui facciamo un po di ordine di venezia di facciamo un po di ordine andiamo in ordine di quello che succede adesso esatto adesso in realtà parliamo di cinema fra pochissimi minuti io credo siano due mi auguro assolutamente che siano due cominceremo a parlare di cinema abbiamo tanti grandi ospiti con noi marco rigamo naturalmente farà il padrone di casa perché noi quando si parla di cinema cinema noi ovviamente alziamo i tacchi facciamo da parte e lasciamo lo spazio a marco rigamo e quindi con lui vedrete protagonisti del cinema italiano e non solo mi verrebbe da dire caro vitelloni internazionali internazionali poi dopo invece torniamo in studio e appunto presentiamo anche il sun splash e con san oliver scardi che è venuto a trovarci ci fa molto molto piacere perché suona al sun splash suonerà anche al sun splash poi parliamo di sto disco e tutte le cose che fa quando si parla di reggae e venezia bisogna chiamare san oliver scardi perché è l'uomo che ne sa e poi invece ridichiamo la parte finale a sport alla rovescia tutto quello che ci sta attorno prossimi sono i mondiali antirazzisti quindi avremo con noi carlo balestri che è lo storico ideatore di questa di questa manifestazione straordinaria e fortunatissima e poi fulvio paglia lunga col suo ogni benedetta domenica presenta il suo libro parla della sottosmissione radiofonica insomma tante tante cose tutta tutta sta roba compressa in cinque minuti compressa in non tantissimo tempo questo è vero però abbiamo lo spazio giusto speriamo che a breve arrivino anche coloro che daranno il la a questa a questa parte diciamo di diretta ma prima 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 andiamo a ricordare cosa accadrà nel weekend cosa accadrà nel weekend perché nel weekend ci sarà un evento dei più ma andiamo a vedere lo devo dire non lo dico dai perché noi caro vitelloni abbiamo doppiato il carosello abbiamo pensato una roba incredibile proviamo a vedere io vado a preparare i popcorn intanto ciao 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 sabato 29 dalle ore 6 i cancelli di sherwood animerano uno spettacolare evento a radio sherwood with sherwood in the sherwood sabato 29 dalle ore 6 i cancelli di sherwood si apriranno per uno spettacolare straordinario evento main stage and second stage il suo nome è altavoz di dia